Fassina, che ne pensa dell'intesa europea sulla Spagna? La Spagna si è salvata? Intesa necessaria, necessaria di evitare un drammatico avvitamento della situazione. Ora servono però tutta una serie di altre misure, perché è stato un intervento emergenziale, decisivo, perché se non ci fosse stato sarebbero derivati notevoli problemi. Ora serve andare avanti, creando innanzitutto un'Unione bancaria europea, che garantisca i depositi delle banche europee, che appunto come è avvenuto per la Spagna preveda uno strumento di intervento sistematico per ricapitalizzare le banche in difficoltà ed evitare che il carico vada sul debito pubblico, per dare regole europee e per poi applicare queste regole europee nella vigilanza bancaria. Questa è l'emergenza, al vertice del 28 e il 29 luglio giugno a Bruxelles, noi chiediamo a Monti che venga affrontato anche il capitolo della messa in comune di una parte del debito sovrano, dei project bond per finanziare gli investimenti, del coordinamento della politica economica verso un'area euro sempre più integrata sul piano politico. Si parlava appunto di contagio, il contagio è stato evitato a questo punto e soprattutto queste manovre sembra che all'Italia costaranno 48 miliardi. Allora come si concilia tutto questo con un PIL che oggi è anche in caduta libera? Insomma la crescita non c'è. La crescita non c'è perché nell'area euro sono state adottate misure scelte e sbagliate perché il governo Berlusconi ha impegnato l'Italia su obiettivi irrealistici. In assenza di intervento sulla Spagna lo scenario sarebbe stato decisamente peggiore. Il punto non è evitare di fare ma fare di più. Vanno appunto affrontati quei capitoli che ricordavo prima. È prioritario per l'Italia allentare la morsa dell'austerità autodistruttiva. Abbiamo obiettivi impossibili che soffocano l'economia e che non ci consentono di raggiungere poi i risultati di finanza pubblica sperati. Quindi oggi allentare il tentativo di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013 attraverso uno spazio per gli investimenti dei comuni decisivo per migliorare le condizioni dell'economia reale quindi imprese e lavoratori ma anche le prospettive di finanza pubblica. Qualcosa sta cambiando. A questo punto lei parlava di austerità. La politica economica della Germania sia a morbidità. Insomma l'austerità della Merkel resta comunque uno dei problemi in questo momento per l'Unione Europea. Non c'è dubbio, resta uno dei problemi. È la ragione per la quale ci stiamo avvitando. A me pare sarebbe utile che tutti nell'area euro dessero un segnale alla Grecia di disponibilità a rivedere il memorandum in modo da allentare un clima molto pesante in vista delle elezioni del fine di questa settimana. La Grecia non deve assolutamente uscire dall'euro. Ovviamente è responsabilità dei greci ma è responsabilità anche dell'area euro nell'indicare obiettivi effettivamente perseguibili. Alla Grecia sono stati dati obiettivi irraggiungibili con il collasso economico e il collasso democratico. Uno scenario ancora peggiore si può evitare ma dipende anche da quello che faranno gli europei.